Io arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli per quanto riguarda la mia carriera perché ho attraversato un momento non felicissimo per quanto riguardava le mie condizioni fisiche dove ho giocato poco, ho trovato poco spazio, quindi vengo con tanta voglia di riscatto, di rimettermi in gioco e di dimostrare nuovamente al pubblico e a me stesso quelle che sono le mie doti, le mie qualità. Durante questi due anni e mezzo circa ci sono stati vari contatti con la Sampdoria, specialmente l'anno scorso nella finestra di mercato a gennaio ero veramente vicino a vestire questa maglia poi per una concomitanza di cose non andò in porto e io ho voluto fortemente avere questa possibilità e soprattutto perché c'è il mister con il quale ho un grandissimo rapporto e apprezzo il suo modo di lavorare specialmente per quanto riguarda la linea, quindi direi che uno dei motivi principali per cui sono qui è sicuramente il mister e poi in generale tutta la società a partire dal direttore per finire ma non per ultimo con il presidente che credo che abbia scelto me perché crede nel giocatore che sono. Diciamo che il compito appunto di un difensore è quello di evitare gol, poi se hai la fortuna io credo che si tratti di bravura nel credere che la palla in quella determinata situazione possa cadere lì e quindi di fare anche gol possa essere un valore aggiunto, per ora mi sta andando bene diciamo tra virgolette anche se ripeto non è il valore fondamentale per un difensore e diciamo che spero di poter regalare qualche gol ai tifosi blucerchiati perché se lo meritano. Il mister è sicuramente un tipo di allenatore che crede molto nel lavoro di reparto che per me è basilare perché ti consente appunto di lavorare bene, di dare un'impronta e delle idee ben definite a tutta la squadra e secondo me questo è fondamentale. è molto simile al lavoro di Sarri che io ho avuto sia a Empoli che a Napoli e ripeto è uno dei motivi principali per il quale io mi sono sempre trovato bene col mister specialmente a Empoli abbiamo fatto veramente una grande annata e sono felice di ritrovare questo metodo di allenamento. Mi fa piacere ritrovare i giocatori con i quali ho condiviso stagioni belle tipo il più recente Raffael, diciamo che i giocatori con i quali ho legato di più nell'arco della mia carriera sono Vasco e soprattutto Riccardo Saponara. Con Regini ho fatto due anni a Empoli veramente belli e tra l'altro abbiamo sfiorato la Serie A insieme quindi un bellissimo ricordo e invece con Riccardo, Riccardo lo conosco da quando avevo 17 anni, abbiamo condiviso veramente tante esperienze, per me è più che un amico, quasi un fratello quindi sono molto felice sicuramente sarà d'aiuto per integrarmi al meglio nello spogliatoio. Appena sono arrivato a Genova ho sentito subito parlare di derby e dell'importanza che questo ha per i tifosi specialmente. Non ho mai giocato un derby in sé perché l'unico magari che poteva essere era l'Empoli con la Fiorentina ma non era così sentito specialmente da parte dei tifosi viola e quindi immagino che sia molto importante per un tifoso vincere il derby e sicuramente sarà una partita che prenderemo a cuore sicuramente. Per quanto riguarda il mio obiettivo personale quello di giocare più partite possibili perché vengo da due anni dove ho giocato poco e per quanto riguarda quello collettivo io mi auguro di poter arrivare in Europa perché la squadra ha tutte le caratteristiche e potenzialità per lottare per quelle posizioni lì. Saluto a tutti i tifosi della Sampdoria e ci vediamo presto in campo. Forza Samp!